Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati sul canale, buon giovedì. Oggi, come avrete visto dal titolo, dopo un video di assoluta novità, come è stato quello di ieri sul Texone, sul Texone di Casertano, che è uscito in questi giorni, oggi dedichiamo un video a un albo che in realtà in edicola è uscito già da un bel po', perché questa sera volevo parlarvi del numero 254 di Dampir, intitolato La maledizione di Whitebee, che è un numero di maggio, quindi un numero dello scorso mese. Ecco, io, come forse sapete, ultimamente ho dovuto fare, come tanti altri, dei tagli relativi agli aumenti, insomma, via dicendo, e quindi avevo deciso di interrompere, se non altro regolarmente, la testata di Dampir, e poi che, purtroppo, non ce la faccio a star dietro a tutto quanto, proprio a livello economico, detto in maniera molto sincera. E quindi, insomma, da questa decisione che ho preso, ho deciso di comprare saltoriamente il personaggio di Dampir solo quando mi attirava particolarmente, insomma, per tematiche, disegni, magari, e aspetti vari. Questo numero, questo 254, l'ho acquistato proprio per la tematica esposta nell'albo. Infatti, come potete vedere, questo numero si intitola La maledizione di Whitebee. Whitebee, voi sapete essere una cittadina inglese, molto famosa, molto conosciuta a livello letterario, poiché Bram Stoker vi ambientò lo sbarco della barra del conte Dracula. Ecco, quindi è una cittadina che è rimasta famosa nell'immaginario collettivo, principalmente per questo avvenimento. Ma a Whitebee ci sono molte altre cose interessanti, come ad esempio una vecchia maledizione riguardante un certo Peter Mallory, se ben ricordo, ovvero un uomo vissuto nel Settecento che prima di morire maledisse una sedia, una sedia sulla quale nel corso dei secoli si sono sedute, insomma, hanno preso posto numerose persone che poi sono morte, tutte quante, di una morte orrenda, prematura. E quindi questa interessante leggenda legata a questa sedia di questo pub di Whitebee viene anche citata in questo numero di Dampier. Infatti Arlan e Kurjak vengono chiamati da Praga a Whitebee dal professor Dean Barrymore che a quanto pare era già apparso precedentemente sulla testata di Dampier, io però non lo conoscevo, non essendo un lettore esperto, insomma, della testata. Vengono contattati da Dean Barrymore che ha subito il rapimento della moglie, potremmo dire, e quindi chiama Kurjak e Arlan per cercare di fiare chiarezza su questo avvenimento. Sì, le indagini di Arlan e Kurjak terranno si legheranno anche a questa maledizione legata a questa sedia di questo pub Mallory e a un uomo fuggito, un uomo orrendamente ustionato, diciamo, fuggito dall'ospedale nel quale era ricoverato dopo aver ucciso un'infermiera, apparentemente così inspiegabilmente. Tutte queste trame, diciamo, differenti si uniranno nel corso della storia e nel finale che io ovviamente non vi spiego, non vi dico per evitare di farvi spoiler. Quindi una storia anche piuttosto complicata, potremmo dire, che mette in scena più elementi che francamente a me non ha soddisfatto più di tanto perché io mi aspettavo forse di trovarci più collegamenti, forse mi aspettavo ingenuamente di trovarci più collegamenti con il romanzo Dracula di Bram Stoker, che, insomma, è uno dei miei romanzi preferiti, nonché una delle opere letterarie più importanti e più spettacolari, più stupefacenti di tutto il genere umano, fondamentalmente. Qui sì, si fanno dei riferimenti, degli accenni, per carità, al romanzo, a Bram Stoker e via dicendo, però io pensavo che si entrasse più nello specifico, ecco. Quindi non dico che sia stata una delusione, assolutamente, perché comunque la storia è carina, non è che sia tanto scorrevole, forse è un po' ingarbugliata, ecco, in alcuni tratti, però comunque stiamo su livelli validi, ovviamente. Dampir è una testata sempre molto eccellente dal punto di vista... scusate, mi è sfuggito il gomito, che sono appoggiato il bracciolo della sedia, scusate un po', la gaffe. Comunque, dicevo, Dampir è sempre una testata che si tiene su ottimi livelli, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un albo sicuramente ben sceneggiato, da Diego Caglielli, che abbiamo visto recentemente all'opera anche sull'ultimo Colorfest di Dylan Dogg, e disegnato da Claudio Stassi con lettering di Luca Corda e copertina di Henry Boldy, tra l'altro una copertina meravigliosa che cita il viandante sul mare di nebbia di Friedrich, almeno io credo che, insomma, ricordi un po' quel dipinto, ed è una copertina meravigliosa, voi la potete vedere anche come inquadratura, come colorazione, anche questo cielo coperto di questo grigio scuro e poi queste onde verdastre, questo fulmine che sullo sfondo illumina questo velliero, che fa un po' il verso a quello del romanzo di Bram Stoker, insomma, è una copertina veramente bellissima, e Henry Boldy, che tra l'altro è l'unico copertinista finora della testata di Dampir, ha fatto un lavoro, secondo me, e c'è una copertina che, devo essere sincero, è stata fra le maggiori motivazioni che mi hanno spinto all'acquisto, diciamo, di questo albo, mentre invece non sono rimasto pienamente soddisfatto, dovendo essere sincero, dai disegni di Claudio Stassi, che comunque fa un bellissimo lavoro, voi potete vedere dei volti veramente molto interessanti e quant'altro, però almeno a me non ha colpito più di tanto, diciamo che si allinea abbastanza alla linea dei disegnatori di Dampir, voi potete vedere che è una griglia molto bonelliana, uno stile molto realistico, per cui non ci sono grossi virtuosismi, anche se ci sono dei volti veramente molto interessanti, anche molto orrorifici, per cui sicuramente la componente sì, orrorifica, angosciante di questo albo è perfettamente ritratta da Claudio Stassi e ci sono anche dei volti molto espressivi, come potete vedere, per esempio, da questa vignetta di questa ragazza, per cui sicuramente non sono disegni brutti, ci mancherebbe, ma è praticamente impossibile trovare dei disegni brutti su degli albi che vengono pubblicati, perché qui siamo sempre a livello professionista, quindi semplicemente sono dei disegni che non incontrano più di tanto il mio gusto o che perlomeno non mi sono rimasti più di tanto impressi, ecco, potrei dire così, ma comunque siamo su ottimi livelli sia di sceneggiatura che di storia. Tra l'altro, questo albo vedeva anche in regalo la medaglia celebrativa di Tesla e Kurjak, che forse riesco, eccola qui, la medaglia celebrativa di Tesla e Kurjak, sapete che c'era tutta la storia relativa alle monete che sono andate avanti per due mesi, ecco, aprile e maggio. Per cui, questo era un video molto così, molto semplice, molto rilassato, di recupero di una lettura, io non ho acquistato il numero di dumpier di questo mese, il numero di giugno intitolato Haiti, con una bellissima copertina, perché le copertine sono sempre meravigliose, però è chiaro che dovendo fare delle scelte, purtroppo non, insomma, ho deciso di non acquistare quello di questo mese, perché come tematica non mi attira più di tanto e guardando anche dei video su YouTube ho preso la decisione di per il momento non acquistarlo, magari in futuro avrò occasione di trovarlo nell'usato, nei mercatini. D'altro, a tal proposito volevo così segnalarvi l'importanza dei mercatini dell'usato, io abito nel Torinese e ho la fortuna di averne veramente tanti qui in zona, però io vi consiglio veramente di farvi dei giri nei mercatini dell'usato sia della catena franchising che anche di altre catene anche semplici mercatini o bancherelle e quant'altro perché si trovano veramente delle novità delle chicche interessanti novità no perché si tratta di usato quindi non di nuovo però spesso e volentieri io ho l'opportunità ecco l'occasione di recuperare delle del materiale interessante a prezzi veramente bassissimi per esempio oggi ho fatto proprio oggi un giro nel mercatino dell'usato che c'è qui nella mia città e ho recuperato un film importantissimo di Tarkovsky Stalker che non avevo ancora avuto modo di vedere di acquistare insomma ad un prezzo irrisorio 2 euro 80 neanche 3 euro poi ho trovato un volume di Dylan Dog ad un prezzo davvero che sembra quasi regalato 45 centesimi tra l'altro anche piuttosto in buono stato questo è il numero è il numero 254 vita in gioco e poi a neanche 2 euro pensate a 1 euro e 95 ho trovato ancora in cielo fanato questo il grande diabolic nuova edizione a colori del 2013 che io non conoscevo sinceramente questa collana e ringrazio Piero del canale Luigi Maxi per avermi spiegato che questo grande diabolic ha colori altro non è che una ristampa dei grandi diabolic in bianco e nero per cui qualcosa di interessante anche perché io non sono solito comprare questa testata per cui per me è sicuramente nuovo sia che si tratti o meno di una ristampa e come potete vedere è un acquisto molto interessante perché insomma ancora in cielo fanato quindi praticamente nuovo ha neanche due euro di prezzo quindi insomma nei mercatini veramente si trovano delle offerte molto interessanti quindi ecco se magari siete indecisi o meno sull'acquistare in edicola quindi nuovo un determinato albo con un determinato numero che non vi convince più di tanto o anche solo perché molto banalmente non avete grande disponibilità economica come il sottoscritto quindi non sentitevi in imbarazzo perché io io metto già subito le mani avanti in questo caso in questo senso sappiate appunto che c'è la possibilità di recuperarli poi nel mondo dell'usato ecco quindi questo soltanto per informarvi sulle sulle grandi occasioni che si possono appunto trovare nei vari mercatini dell'usato detto questo io vi ringrazio per l'ascolto se vi ricordate di questa storia e volete lasciare un commento fate pure che io e giro risponderò con molto piacere detto questo io vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo al prossimo video a voi piacendo ciao a tutti e alla prossima ciao